Sì, è bello, è bello rivedere i compagni, vedere tutto lo staff che comunque da quando sono arrivato mi hanno accolto benissimo, hanno fatto di tutto per me, quindi anche oggi li ringrazio, comunque ho salutato tutti, è stato bello rivederli, però a noi ci servivano i tre punti, li abbiamo fatti, questo è l'importante. Mi metto molto a disposizione della squadra quando c'è da lottare, finché ci porta risultati come quello di oggi va bene, però è vero come dici tu, per un attaccante è molto importante il gol, mi sta mancando tanto, spero che arrivi il più presto possibile, ma già arrivata la prima vittoria questa è la cosa importante, ora con questa vittoria possiamo stare più sereni e sicuro arrivano anche i gol.